Ma voi avete idea di quanto costa andare a rettificare un cerchio in lega diamantato? Questo cerchio qua, il danno è dov'è? Qua, questo è il danno. Qual è il valore che dareste? Quanto paghereste per mettere a posto questo cerchio qui avendo soltanto questo danno qua? Rettificare un cerchio del genere costa 120-130 euro, ma proprio perché loro con la rettifica non possono farti soltanto questo raggio qui, loro lo devono fare tutto. Si mette sulla CineC, si gira e te lo fanno tutto. Non vale la pena farlo per questo qui, cioè io non pagherei 120 euro per fare un raggio perché a me interessa solo un raggio, tutti gli altri sono sani, devo fare questo. Non si può fare. Se tutto il cerchio fosse stato così, allora sì, pagherei 120 euro a cerchio e tanto e da far tutto, gli darei volentieri i soldi. Come si fa a fare in economia? Abbiamo tre step, pulizia, carteggio e lucidatura. Primo step, pulizia. Per essere un po' più comodi, questo qua, la pompetta, prima di... Tu non avrai il ponte, quindi vai al lavaggio, ci metti dentro la pompetta, spruzzatina sul cerchio, se il cerchio è messo male, è molto sporco, c'è anche la spazzola dentro il kit e poi vai di acqua, vai con la lancia. Io qua purtroppo non ho potuto usare la lancia, c'ho il grigliato sotto, non posso allagare la carrozzeria. Secondo step, carteggio. Iniziamo con la P150. Prossimo step, abrasivo P240. Prossimo step, abrasivo P240. 400 600 800 1.500 ha bagnato ultimo passaggio, P3000, sempre bagnato. Chi vuole fare questo lavoro qua? Dovete seguire i passaggi, voi non potete fare 150, poi 500. Se non hai la P240 e la P400, non lo iniziate a fare, prendi la P150, 240, 400, 600, 800, 1500 e 3000. Ed è fondamentale questo passaggio qui. Andiamo verso l'ultimo step, chrome polish, kartec, lucidatura. E questo qua è il risultato finale? Sarebbe troppo bello essere perfetti, non siamo perfetti, tu che hai lavorato su questo cerchio, su questo raggio qui e sai dove guardare, la noti un po' di differenza. Guarda lì, la vedi? Però ti devi proprio avvicinare, è un ripristino in economia, altrimenti devi fare tutto il cerchio. Secondo me è una bella cosa, a me piace comunque, a me piace tanto. A te? Non è venuto male, siamo stati bravi, siamo stati più che altro fortunati. Io sì, voi non lo so. Marchino, come ti sembra? Aspetta che mi metto gli occhiali, che non ce ne vedo niente. Va bene, direi che... Ho fatto i passaggi giusti? Sì, massimo risultato. Grande, grazie. Abbiamo detto che ci servono questi dischetti qua e questi si trovano un po' dappertutto, in ferramenta, nei colorifici, prendete questi qua. Poi per quanto riguarda il kit, il kit è questo qui. Guarda. Kit ripristino, cerchi diamantati, il preparatore 2.0. Abbiamo il wheel wash con la spazzola, voi lo fate a lavaggio, se avete i cerchi merdi usate questa. Un panetto e il chrome polish. E questi qua li trovate su charismatics.it. Però annullando il ciclo del carteggio, questa pasta qui e questo panno qua, andate a lucidare tutte le cromature, le barre del tetto, chi fa il camionaro, che ha quei cerchi lì, oppure le cromature, fate soltanto panetto e chrome polish.